franco genzale presenta la siringa di mila martinetti udite udite lunedì scorso all'inaugurazione del servizio di radioterapia presso la clinica villa maria di passo di mirabella ciriaco de mita nella qualità di ospite è arrivato sotto braccio con mimmo covotta a destra ed enzo de luca detto enze a sinistra normale che a riceverlo così affettuosamente ci fosse covotta e lui il padrone di casa ci mancherebbe la sorpresa invece è stato enze quando parla con quelli del suo clan infatti dipinge ciriaco manco fosse lucifero riemerso dagli inferi poi in pubblico è così tenero così accorto così miele attento ciri questo non taccarezza come diabolicamente fai tu perché vuole l'anima questo aspetto che gli dai le spalle tu capisci a me ehhh ehehe che Hehehehehehe